Buonasera a tutti, noi siamo la banda di chi vuole, siamo felici di essere ospiti in questa importante occasione artistica, realizzata dalla grandissima Sonia, che si è da uno staff meraviglioso, felici di essere qui, scelterando uno dei luoghi più importanti, abbiamo tolto il ruolo questa occasione per presentare in anteprima il nostro progetto discografico, editoriale e teatrale, dal nome tutto esaurito. Troppo l'ignoranza è faticoso, anche salutare si potrebbe migliorare, si potrebbe recuperare, si potrebbe smaltire. Viviamo nel paese con la cultura scioglimacchia, turbodiesel, production, il giornalista in Vespa, siamo la generazione usa e getta, che si aspetta che le cose vengano sistemate da striscia la medizia. Il rispetto del re, non le sopprime la presidio trappino, o che si incostruisci la narghiera da dai. Vabbè dai, ora non ci pensiamo, evitiamo di ammorbarci, tanto se dovessimo ritrovarci nei casini, ci sono sempre i nostri genicoli che possono aiutarci, no? Sta con pressione, in qualche modo ce la scampiamo. Abbiamo sempre fatto, siamo o non siamo italiani? Stiamo qui solo, che non ci sono, ciò che conta ora è solo un rock e roll, non c'è noi è solo buona musica, canta, balla, pallone, più bravica. Perché l'uomo sarà proprio come noi, desideriamo che siamo. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Articolo 9 Grazie a tutti. Ma già po' che il rinommero è tacioso e solitario Non sa essere sincero e nessuno tocca il suo affoglio. Non sa essere sincero e nessuno tocca il suo affoglio. Non sa essere sincero e nessuno tocca il suo affoglio. Non sa essere sincero e nessuno tocca il suo affoglio.